Allora in realtà che cosa succede al nostro linguaggio nell'epoca dei social è una questione che va allargata. Che cosa è successo al linguaggio negli ultimi 50 anni? Intanto siamo diventati tutti italofoni. È una conquista molto tardiva della nostra lingua rispetto alla storia di altre lingue e altri stati. Secondo me questo ha fatto sì che oggi viviamo una sorta di schizofrenia fra il linguaggio della scuola, la lingua della scuola e la lingua della strada. Sui social lo vediamo molto bene perché sui social scrivono tutti indistintamente non per forza solo quelli che hanno la patente per scrivere. La mia teoria, suffragata poi anche da dati, è che non scriviamo peggio di una volta, solo che si vedono molto di più livelli di lingua che prima non si vedevano. Io raccolgo da sempre per hobby le liste della spesa lasciate nei carrelli in giro per i supermercati e lì da sempre si vede un tipo di italiano che di solito non ha le luci della ribalta. Quello che vediamo sui social spesso è a livello delle liste della spesa. Quindi è un momento molto eccitante perché si vedono dei livelli di lingua inediti e vedendo il problema si può anche intervenire. Secondo me oggi non possiamo fare a meno di considerare i social parte della nostra vita. Poi chi più chi meno, chi si sente a proprio agio e chi no, ma ignorarli o scegliere la strada del non starci per niente io lo trovo riduttivo. Forse lo si può fare da una certa età in poi quando professionalmente, umanamente si è già arrivati per così dire a una stabilità, ma per esempio per i ragazzi di oggi io la trovo la trovo una perdita, ci si leva un piacere e qualcosa che può avere anche dei risvolti molto pratici. In questo sistema in cui ahimè le generazioni di genitori attuali, di genitori di bambini abbastanza piccoli non sono sempre in grado di dare le informazioni corrette ai figli per stare online, io ritengo assolutamente necessario che centri anche la scuola. Io individuo come uno dei motivi di preoccupazione attuali il fatto che molte scuole ancora si vantino di essere completamente offline, cioè di non considerare proprio l'ambito online né tantomeno quello dei social, che è visto come una cosa a sé. Forse è ora di abbracciare quell'idea di Luciano Flori di on-life, cioè di una vita in cui online e offline non sono più separati e quindi dobbiamo imparare a gestirla.